Oggi onde si entra in acqua, si fa il surf, poi si viene sulla spiaggia e ci si mette ovviamente a pulo in pulino perché c'è questo mondo e quell'altro, questo è un metro forse, anche meno, c'è di tutto ovviamente, ma la cosa peggiore è lei, prima o poi la gente lo capirà, va bene.